Le condizioni meteorologiche del 2019 sono state particolarmente sfavorevoli alle api e di conseguenza alla produzione del miele. Il freddo che è andato fino alla fine di giugno e il troppo caldo nel mese di ottobre. Questo purtroppo ha provocato una produzione scarsissima di prodotto di miele e questo naturalmente comporta un danno agli apicoltori. Nella regione Marche abbiamo 1.700 apicoltori, 600 nella provincia di Pesero e Urbino, una produzione media stimata di 1.250 tonnellate di miele nella regione Marche. Quindi è importante il quantitativo ma è importante anche il prodotto e il fatturato di conseguenza del prodotto. Queste condizioni meteorologiche di fatto hanno creato seri problemi al settore e abbiamo approvato una mozione in Consiglio regionale che prevede uno stanziamento nel bilancio 2020 di adeguate risorse per indennizzare gli apicoltori. Non solo per dare loro una possibilità economica a causa del danno che hanno ricevuto ma anche per salvaguardare le api. Perché abbiamo la consapevolezza che le api sono importanti per la biodiversità, per l'ecosistema, quindi anche ovviamente per l'ambiente e addirittura c'è chi dice che quando non ci saranno più le api ci sarà la fine del mondo. Quindi da una parte salvaguardare le api e dall'altra salvaguardare, dare una mano al settore che ovviamente ha subito gravi danni. Questa mozione è stata presentata a firma del sottoscritto e anche a firma del collega Presidente della Seconda Commissione Gino Traversini.